via. Ciao ragazzi, quattordice zero otto, benvenuti a tutti, è giovedì ventuno, il giorno dopo l'insediamento di Biden a Washington, già tutti i decreti firmati, si cambia tutto, ma non cambia la musica sui mercati finanziari, anzi, si amplifica nel senso positivo del termine, le borse hanno rellato come non ci fosse un domani e anche oggi, soprattutto osservando i mercati americani, vi sono dei progressi interessanti, più interessanti sul Nasdaq, dove partono delle ricoperture, dove sono partite già da ieri delle ricoperture importanti su alcuni titoli che erano stati sottovalutati, a parte il caso di Netflix, molti altri titoli hanno fatto dei rally decisamente significativi, in generale c'era un po' di scetticismo, si pensava che il cambio della guardia sarebbe stato più contrastato, ma ventimila, venticinque mila, non so quanti erano soldati, posti a difesa di quella che è sembrato più che una casa bianca o un Campidoglio, una fortezza, hanno probabilmente fatto in modo che tutto, almeno per le informazioni che abbiamo, fosse passato sotto silenzio, Lady Gaga ha cantato, abbiamo quindi anche i nuovi bardi dei dei nuovi poteri, insomma la politica e l'economia ieri hanno fatto rellare i mercati. Questo è il DAX, ma io credo che la cosa più importante da guardare sia questo ragazzaccio, veramente impertinente, cattivissimo, questo è il signor Nasdaq, ieri Nasdaq veramente di tutto di più, molto molto interessante, un progresso fatto anche con volatilità estrema e per quanto riguarda anche i mercati, i mercati finanziari direi decisamente non anomalo, non lo trovo minimamente anomalo, guardando e contestualizzando l'andamento del mercato, lo trovo molto robusto e un progresso che ha toccato di target particolari. Giusto per parlare di target, ne discutevamo stamattina nella chat dell'area riservata dove alcuni di voi che sono qui nel webinar mi fanno anche compagnia tutti i giorni, io stavo osservando SP500H4, questo è SP500H4, vado a prendere SP500 dal 12 di novembre, stringo un po' il grafico per comodità semplicemente di trattazione, 12 novembre, qua, da questi minimi, prendo questi minimi, tenete presente che non è esattamente un grafico analogo a quello dei mercati ufficiali ma mi interessa vedere una cosa, qui c'era stato un massimo, molto respinto, recuperato, testato e sovrapassato di brutto con un test, quindi io ho preso per buono quest'area perché mi sembrava un'area interessante, da lì ho tracciato una linea che andava a prendere questo minimo e questo, quando ho tre minimi vicini ma non troppo, distanti ma non troppo, un po' sbucciati ma che mi creano una linea interessante, io la tiro su e chiaramente accetto anche che poi vi sia in un momento di forte volatilità una sbucciatura di questo livello, ci mancherebbe altro, non l'accetterei se invece questo livello fosse raggiunto in un clima di volatilità bassa e allora poi a quel punto ci sarebbero delle altri tipi di situazioni. Non mi sfugge sul quattro ore e soprattutto sul daily il fatto che il sentiment sia andato a calare, mi sono sempre però comportato da suggerire prudentemente di avere quella sana diffidenza che secondo me verso i mercati finanziari bisogna avere perché dove gira il soldo? Le trappole e le bugie sono all'ordine del giorno ma al tempo stesso ho suggerito a più ripresi non andare contro il mercato perché non era un mercato che secondo me aveva tecnicamente la voglia di scendere. Vi era stata una rara effrazione di volume dovuta anche al periodo festivo per cui prendiamolo con il beneficio di inventario e diamogli il peso che gli dobbia andare però al tempo stesso quello che ho visto qua è stato che di base non c'era minimamente l'intenzione di mollare graficamente non l'ho vista questa stessa linea la duplico e l'attacco non su questo massimo su questa zona di massimi qui il grafico non comprende il rolling perfetto dei contratti che vi è stato la dicembre a oggi ma in realtà a mio parere rottura si cammina sopra si torna indietro si ripassa sopra è chiaro che a 3820 sono saltati di nuovo in corrispondenza della rottura del trend line e anche di questo massimo dei livelli importanti giusto per darvi l'idea di cosa significa lavorare su un grafico libero come questo che quindi non setta i collegamenti fra i contratti adeguandoli con una specie di rinnovamento dei dati è quello che per esempio questi giorni stiamo osservando in borsa con la quotazione di Stellantis che sostituisce Fiat dove tutte le serie storiche vengono adeguate con delle incorporazioni di valori che cercano di creare una serie storica omogenea fra di loro faccio vedere giusto per darvi un'idea lo stesso grafico su un mercato ufficiale questo è l'SP ma questo è un SP rollato e adeguato è proprio collegando incollando tutti i dati e vedete che questa linea che ho tracciato va proprio a prendere chirurgicamente questo massimo che invece nel nostro grafico era sbucciato e va a prendere questa parte qui in alto ciò sta a significare che invece su un grafico non armonizzato le cose sono differenti ma mi preme farvi notare che almeno per la seduta di oggi e se non viene giù qualcosa io credo che il 3820 soprattutto per la violenza con cui è stato aggredito in concomitanza anche con la rottura di questa tranquilla di sentiment e difficilmente verrà buttato giù e in ogni caso osservando l'indicatore stay a 3780 circa qui c'è stata una nuova partenza di long in corrispondenza anche di buoni spunti non di volumi perché sono molto bassi i volumi se guardate questo è l'unico segnale di prudenza e di scetticismo che ancora ho forte rally ma i volumi sono bassi e mi fa pensare che questo non sia un rally che ha castigato piccole operazioni ribassiste però se tu castighi dei prezzi su cui ci sono dei pendenti di piccoli operatori e contemporaneamente ci sono dei pendenti di grandi operatori che quindi vanno a switchare a comprare in questo caso le operazioni chiuse in perdita anche con opzioni non c'è bisogno soprattutto su determinate salite di far progredire le quotazioni in accordo con i volumi ciò non significa lo dico chiaramente che i volumi sono una variabile di cui non tenere conto ma manco ma manco ma manco per niente è semplicemente una variabile che va contestualizzata soprattutto quando si opera con piattaforme come queste dove indipendentemente dal fatto che siete su un broker che si chiama A piuttosto che B sono piattaforme popolate come composizione della clientela di un broker di forex e di cfd da operatori scarsamente capitalizzati che tendono a usare anche molto la leva e di conseguenza sono quelli operatori che più frequentemente si trovano poi a dover gestire le posizioni perdenti e sarà un argomento che svilupperemo nella seconda parte del nostro incontro SP e Borsa Americana hanno fatto quindi un progresso estremamente forte e robusto che non pare al momento in cui stiamo parlando essere messo in discussione perché è decisamente molto molto importante non va assolutamente né negato né demonizzato vedo ogni tanto su certe pagine facebook continuare io guardo i social spesso per fare l'esatto contrario di quello che leggo e quando leggo che ci sono persone che continuano a imprecare sulla manipolazione dei mercati sul fatto che gli americani sono dei buffoni che continuano a sostenere le contrattazioni in barba a tutto mi viene da ridere penso che finché ci saranno tanti predicatori di ribassi che per ora non avvengono il mercato difficilmente mai è un'altra cosa difficilmente avrà ragioni tecniche di sentiment della massa in grado di farlo scendere finché ci sarà tanto scetticismo e questo scetticismo non sarà nei grandi investitori che anzi per motivi di loro convenienza hanno tutto l'interesse a dire anche a volte contro ogni evidenza pratica che è il momento buono di comprare hanno tutto l'interesse a farlo ma non vogliamo fare di questo webinar un inno al complottismo finanziario ma semplicemente cercare di capire le ragioni che sottostanno ai mercati le ragioni che sottostanno ai mercati le ho spiegate velocemente stamattina in un video che ho pubblicato alle otto e venti su youtube e sono che l'elezione di biden era già abbastanza apprezzata dai mercati si sapeva e si sa chi è biden qual è la sua politica estera rispetto al sopradecessore e si sapeva che comunque l'elezione di biden è nella buona sostanza un'elezione dove chi è andato alla casa bianca cercherà di fare quasi tutto l'opposto di quello che ha fatto trump è sul quasi che si gioca la cosa la cosa si è giocata perché la palla ieri secondo me dal punto di vista proprio economico che è quello poi che a noi interessa le idee politiche ognuno se le tiene come vuole è stata la signora Janet Yellen non vi devo dire perché siete tutti più esperti in me che è la signora Janet Yellen è una persona che insomma se lì è perché ha buoni motivi nel suo curriculum per occupare la posizione molto 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 importante di sottosegretario del tesoro la Yellen ha detto che se c'è una cosa che accumulerà la politica dell'amministrazione repubblicana a quella della nuova amministrazione democratica è la continuazione chiaramente Fed è già informata di questo ordine la continuazione degli stimoli fiscali e che il previsto ventilato aumento delle tasse su cui Biden aveva perso qualche punto di sondaggio può ancora aspettare un bel po'. Questo unito ad una politica comunque falsamente antagonista verso la Cina ma nella sostanza assai più morbida sono noti i legami di molti esponenti dell'amministrazione nuova e del figlio di Biden con il governo cinese all'interno di un discorso molto più ampio che oggi non abbiamo intenzione di affrontare è evidente che il dialogo America Cina considerando anche quanto la Cina possiede di debito pubblico USA rimarrà un dialogo secondo me un po' alla Don Camillo e Peppone con la differenza che mentre Don Camillo e Peppone erano nel senso buono due figure simpaticissime ma anche due grandi scappati di casa seppure non stupidi questi non sono scappati di casa sono ben seduti a casa loro bianca o o gialla o rossa che sia e sanno perfettamente che cosa muovono tutte queste intese. Quello che i mercati stanno sicuramente ricependo in senso positivo è che una amministrazione ancora molto orientata a continuare la politica di assistenza alle fasce più debole della popolazione. La Jelen ha confermato l'innalzamento del salario minimo a 15 dollari orari e tutta una certa serie di altre manovre che non si possono che definire espansive sicuramente premia a favore le borse americane che con un dollaro debole sono state più facilmente oggetto di acquisti rispetto a un'Europa dove l'euro si è un po' indebolito perché il dollaro è debole strutturalmente e andiamo a vedere un grafico di euro dollaro se lo eccolo qua ma di base l'indebolimento di euro sembrerebbe ancora un indebolimento che ci sta guarda che bella guarda che bella questa linea ma che figata questa linea tracciata così guarda le linee multipivot sono meravigliose ok chi si roda si imbroda l'indebolimento dell'euro è una fase di presa di profitto dopo un rialzo molto verticale ma non sembrerebbe almeno nella fase attuale finché non si va sotto un eventi essere un indebolimento che possa più di tanto intervenire nella dinamica dei mercati stessi sulla base di questo infatti il sentiment si è avvitato senza esprimere nessuna direzionalità ma in questa fase predominano delle prese di profitto e predominano che sono dovute anche a un motivo molto semplice se tu mi fai un canale e mi lavori dentro un canale come questo che ha un suo senso e ve lo faccio vedere il senso misuro l'altezza del canale la me la porto giù prendo una linea di questo tipo me l'attacco qua e vedete che non abbiamo molta distanza fra gli estremi dei canali stessi se tu mi su superi questo canale mi raddoppi la volatilità con cui ti stai muovendo riuscite a seguire questo ragionamento se qualcuno non lo segue lo rispieghiamo pertanto è evidente che questo ratio di volatilità che adesso andiamo a disegnare cosa ti ha voluto farlo sì in espansione sto facendo tutto a mano perché vedete che quando si va sulla valuta al doppio della volatilità si va a lontano a questo è la base del canale che abbiamo individuato l'abbiamo raddoppiata e abbiamo creato un'altra base di canale seppure adesso non è proprio del tutto omogenea ma giusto per dare un'idea questo è dove l'euro dollaro si è mosso in certo punto l'euro dollaro si muoveva fuori dal canale e quindi cosa facciamo misuriamo l'ampiezza del canale stesso sempre che io riesca scusate un attimo ogni tanto vado esco pazzo nei grafici ok è il bello è anche il brutto di quando si fa le cose in diretta che non ci si preparano prima e quindi le si fa cotte e mangiate in paninoteca supero il canale a questo punto il movimento è da un'altra parte e se io questo movimento lo passo di nuovo sto raddoppiando con questo estremo la volatilità del canale e sulle valute i raddoppi di volatilità sono sempre momenti nei quali soprattutto considerando che già vi era stato un rimbalzo molto forte chi è in posizione capitalizza il rapporto spazio percorso 1 e 16 1 e 23 7 figure in 6 gennaio 4 novembre cioè 7 figure su un euro dollaro che ti vale 1 e 16 voi fate proporzione 7 diviso 116 è il 6 per cento il 6 per cento in due mesi sull'euro dollaro significa il 3 per cento al mese 3 per cento al mese moltiplicato 12 fa 36 per cento l'anno 36 per cento l'anno è una performance annualizzata che suggerisce di prendere dei profitti se non l'avete capito devo andare avanti registriamo il webinar ve lo guardate con calma e lo rivedete k e quindi ok c'è un un microfono acceso ok chiedo a tutti di stare attenti quando vi collegate che avete i microfoni aperti si sente tutto quello che fate in casa a noi non interessa per cui grazie che un collega me l'ha segnalato nel frattempo c'è qualcuno che bussa per entrare e purtroppo entrerà un'altra volta quindi un euro dollaro di base favorevole all'euro sfavorevole al dollaro fa sì che il dollaro rifletta un'attesa non ancora concretizzata di rialzo dell'inflazione e di conseguenza rifletta una probabile attesa di rialzo di inflazione quando i bond perderanno ancora quota secondo riflette manovre espansive di fed e un euro dollaro a buon prezzo fa sì che la borsa americana si possa comprare in maniera interessante c'è poi la prospettiva che da questa pandemia se ne possa uscire velocemente perché come segnalavo io su youtube stamattina sono andato su un sito e ho visto che la i vaccini in america stanno procedendo a un ritmo di circa ottocentomila vaccinazioni al giorno questo significa che si ritiene possibile vaccinare metà della popolazione americana entro un arco di qualche mese ciò vorrebbe dire come fare centoquarantacinquemila vaccinazioni al giorno nel nostro disgraziato paese dove pfizer ci tiene per le palle e ci dice che va attaccate al ciuccio io vi siete fatti una vaccinazione tenetevi quella perché non ce n'è più per nessuno è chiaro che è chiaro che quindi se in america ci saranno persone più guarite rispetto ad altri paesi è ovvio che questo la borsa lo riflette e va a comprare la competitività di un territorio che diventa una vera e propria asset class che in previsione di primavera ed estate fa sì che l'america si pensa questa è la scommessa che stanno facendo i mercati uscirà prima dalla crisi rispetto ad altre realtà questo tecnicamente si accoppia ed è anche per questo motivo che le borse americane hanno fatto questo rally molto molto forte si accoppia con un altro motivo che è quello dell'uscita delle prossime trimestrali facendo un rapporto prezzo utili e andando anche a guardare i cosiddetti earning per season attesi non sembrerebbe da ciò che gli analisti stanno suggerendo di osservare che gli EPS siano molto diversi da ciò che ci si aspetta e soprattutto diversi da un trend che potrebbe portare questi numeri cioè gli utili attesi intorno agli utili che le aziende dichiaravano e che poi hanno fatto perché ormai è già storia nel 2019 ciò starebbe a dire che se dalle trimestrali usciranno fuori determinati tipi di numeri che gli analisti stanno già comunque illustrando agli investitori quantomeno in termini di utili fatti in un momento del genere anche visti per gli utili in questo caso del quarto trimestre e per quelli prospettici qui bisognerà andare a guardare le guidance cioè le attese da parte dei CEO e degli amministratori delle aziende sembrerebbe quindi che sembrerebbe se così fosse l'America si confermerà e confermerà che i fatturati e i ricavi delle aziende sono tornati ai tempi del pre covid ciò quindi giustifica agli occhi degli investitori e degli asset manager che aver comprato azioni con il 40 per cento di sconto è stata una buona cosa e pertanto questo tipo di politica di essersi anticipati per tempo e adesso fanno entrare il popolino è palese e che possa essere uno dei motivi non secondario assolutamente che tengono le borse molto a rialzo le quali si giovano come già detto andando a prendere per esempio anche il Dow Jones che è un listino più tranquillo si giovano di un clima dove queste figure a bandiera molto esasperate verso l'alto ma assolutamente incapaci di una benché minima correzione farebbero ritenere che sia ancora prematuro questa è la mia idea la potrei cambiare anche fra due ore perché noi investitori dobbiamo essere sempre pronti a rinunciare ai nostri pensieri se il mercato ne illustra di più efficaci e di più produttivi sembrerebbe che al momento attuale ancora non ci sia trippa per gatti per scendere e tutto questo oggettivamente parlando ha una sua importanza nello spiegarci perché questa persistenza del long e questa pervicacia non ritracciare siano decisamente molto validi osservando l'andamento del sentiment su h4 che è un ottimo time frame sia per monitorare i movimenti più importanti dell'intraday ma anche per farsi logiche di tendenza vediamo che la linea dello zero è stata toccata l'ultima volta perché qui non è stata più avvicinata con i prezzi su questi livelli potremmo quindi dire a buona ragione che fino a quando i mercati azionari si manterranno sopra i massimi della prima decade di novembre caratterizzata il 9 di novembre dell'anno scorso anno dalla quella che noi abbiamo chiamato alcune volte la candela Pfizer sarà difficile che le debolezze che non possiamo escludere vista la verticalità del trend non siano comunque occasioni di acquisto cioè un grafico di questo tipo non è detto che non possa ritracciare lo può fare ci mancherebbe altro ma a mio modo di vedere la ristrettezza del canalino su cui le quotazioni si muovono porge l'altra guancia anche a volatilità che potrebbe essere brusche e che potrebbero nel caso del Dow determinare sotto 31.000 circa 30.980 quindi sono 150 punti un 0,5 per cento anche dei ritracciamenti che però a mio modo di vedere troverebbero dei supporti anche in area 30.670 troverebbero dei supporti sul passaggio a 30.400 della media mobile troverebbero dei supporti in area a 30.100 cioè i supporti sono tutti più o meno tolto questo distanti l'uno per cento ciascuno dall'altro scusate stavo per dire l'uno dall'altro era una ripetizione detto questo ciò può anche secondo me configurarsi come una politica da seguire sul DAX dove però sul DAX suggerisco di prestare un po' più di attenzione rispetto agli americani perché sul DAX la volatilità è comunque un po' più strana è difficile tracciare una canalizzazione fatta bene sul DAX Future in questo caso replicato dal CFD di AVA perché anche volendo fare il megafono in questo modo qui c'è un'uscita qui un rientro sotto ma per il momento in tutta franchezza l'unica cosa che si può fare è vedere se questa linea di tendenza dei massimi è replicabile e non lo è per cui noi ci troviamo di fronte a un DAX che ha un grafico estremamente strano perché è un grafico di un megafono e questo è un segnale segnale non è niente altro che un avvertimento di possibile incremento della volatilità forse però disturbato da questa gamba molto elevata ma a tempo stesso è anche un grafico nel quale noi facciamo fatica a trovare punti che ci possano giustificare un eventuale ingresso short se non considerando che questa figura che vi ho disegnato qua sta creando una progressiva compressione di volatilità giusto per darvi un'idea non soltanto grafica ma anche matematica oggi sulla matematica ci intratterremo un attimo vi faccio vedere questi che i miei abbonati conoscono bene sono gli studi sulle volatilità giornaliere di money management su cui tra un po' entrerò in un secondo discorso che pubblico ogni giorno sul sito mio sulla riservata dei canali telegram che attengono al mio lavoro e lo faccio sia per i CFD azionari bund btp bond e anche qualche materia prima e questo studio è fatto anche per le principali valute quello che contro le rete che controlliamo è che la volatilità dell'ultima settimana è decisamente bassa ma vabbè era anche un periodo in cui si aspettava le elezioni americane questo chiaramente nei cinque giorni comprende anche le forti sparate di ieri che comunque sia pure non a ribasso ma rialzo sono state estremamente brusche come range e come tutto il resto perché non dimentichiamoci che comunque ieri si è rellato e si è rellato direi anche decisamente bene con dei distingo russell per esempio ieri non ha avuto una performance assolutamente analoga a quella del nasdaq perché ha fatto un 0 30 0 40 per cento nasdaq ha fatto due ci sono stati proprio degli spostamenti portafoglio ma voi vedete che anche osservando le volatilità dell'ultimo mese cominciamo ad avere dei cali non indifferenti fra l'ultimo mese il trimestre il dax via comunque 25 contro 18 24 contro 16 per l'aerostox 27 contro 20 del fuzzimib 16 e 8 17 contro 19 vedete la ecco l'america invece è stata un po più incline a sciacquate momentane di debolezze comprate il russell è sempre molto robusto se prova ad apprendere la mensile con la settimanale i cali di volatilità sono pazzeschi 5,4 per il dow jones contro 17,1 sono numeri che possono e secondo me dovrebbero aiutare moltissimo i trader a posizionare correttamente le loro operatività perché questo può essere un avviso di come in temi strategici e parleremo tra poco di strategie bisogna comportarsi durante il giorno la volatilità è comunque anche in forte calo e rende vischiosi i mercati un po a palude anche per quanto riguarda il valutario la settimanale dell'euro dollaro è meno della metà della mensile idem con patatine per euro yen brutale dollaro yen sterlina sempre un po più volatile rispetto agli altri sia nei cambi verso euro che contro il dollaro chf vabbè fa un mercato se c'è forte compressione in generale la volatilità è bassa dove c'è dollaro o a numeratore o a denominatore questo soprattutto col dollaro al numeratore fa sì che il dollaro con questa sua attenuazione lenta sia anche un po un calmieratore della volatilità cascata su tutte le valute lo si potrebbe vedere ci dedicherò il prossimo webinar che parleremo di fed andando a guardare uno studio sul dollar index usd cad per esempio 4 contro 10 australia kiwi e ossi 6 contro 13 5 contro 15 e anche la volatilità annualizzata che risenti chiaramente di quando c'è stato nel calcolo tutta la barahonda di covid è comunque ben più alta e la mensile 8 contro 11 7 contro 11 7 8 contro 9 11 queste pari 9 contro 12 5 contro 5 la mensile la 20 giorni vedete è un pochino anche lei in calo rispetto alla trimestrale e questo significa che con ogni probabilità dobbiamo anche mettere in conto che potremmo avere delle sciacquate diciamo diciamo così però nella buona sostanza vittorio traduci per noi che non sappiamo l'inglese grazie tu che sei un uomo di cultura sulle volatilità bisogna stare attenti e questo ci porta poi anche a dover sapere sul grafico come muoversi quando comunque lasciamo stare i movimenti di adesso sulle 14 e 41 da 11 minuti o poco più o poco meno è partita bce quindi chiaramente un po' di movimenti ci sono di solito il mercati azionari non riflettono mai gli atteggiamenti di bce con grandi esplosioni di felicità soprattutto perché ritiene che bce sia attendibile nella misura in cui vanno un po' a vedere che cosa succede su euro dollaro vedete che invece piccolo calo delle borse concentriamoci su five minutes un cinque minuti come time free vedete l'euro dollaro invece garlo e simpatico all'interno comunque di un clima di preparazione alla riunione bce che su euro dollaro era comunque abbastanza positivamente orientato già da stamattina le trend line sono ancora un ottimo strumento per coniugare avete ragione scusate lo schermo è rimasto sulla tabella chiedo scusa chiedo scusa chiedo scusa è un errore che commetto ancora troppo spesso grazie avermi ricordato davide vedete che euro dollaro grafico ma in termini di sentiment era sostanzialmente da ieri che la nostra divisa continentale era positivamente schierata soprattutto andando a prendere questa fase di ritracciamento che ha avuto e andando a vedere come poi il recupero molto impulsivo ha cominciato a lavorare e soprattutto il 50 per cento vedete rimbalzo sul 50 38 cazzeggio ritorno sul 50 38 non viene toccato si supera 50 si va più o meno a 61 si cazzeggia ci sta lì si ritorna sul 50 è una sequenza di massimi e di minimi crescenti e di norma questo significa che il mercato ha un' impostazione dove le debolezze si comprano le forze eccessive tendono un po' a essere vendute possiamo stare quando parla bc che è un altro tipo di discorso e allora in quel caso noi possiamo anche su un grafico m5 che secondo me non ha molto valore tracciare dei supporti dinamici sugli indicatori che voi usate potreste qui lo faccio sul sentiment potreste farlo anche su altri indicatori che non so il commodity channel index ad esempio e questo vi può aiutare come la debolezza del dollaro sicuramente non dispiace alle materie prime sia perché materie prime che si possono comperare con un vantaggio di cambio sono un approvvigionamento che l'industria quando ci va a fare shopping non può non usare ma al tempo stesso anche perché materie prime più convenienti sono a maggiori acquisti e muovono il ciclo di mercato in generale il dollaro forte è in maniera diversa sempre un po' rifugio e sempre un po' indicazione che si esce dal rischio questo lo sa bene il petrolio che anche se oggi perde qualche cosa è stabilmente sopra i 53 dollari osservare su un H4 e petrolio possiamo stare dove siamo partiti ma petrolio stiamo a primi di stiamo a 49 all'inizio anno e siamo a 53 e sono quattro punti e quattro punti su 49 e tanto è quasi l'otto per cento otto per cento in tre settimane e cosa fa fai otto diviso tre lo moltiplichi per quattro ti viene quasi quasi un dieci per cento mese è vero che petrolio ha volatilità e quindi ci può abituare a performance strappi di questo genere parlavamo prima del 36 annualizzato sulle valute ma al tempo stesso bisogna anche tenere presente che questo significa che l'industria consuma chiede parla di energia per quanto riguarda il petrolio la performance è tirata chi avesse l'indicatore di sentiment farà bene a tracciarsi una linea di supporto di questo genere perché comunque su questa salita c'è qualche strappo queste divergenze che sto notando anche sui mercati azionari sulle loro salite anche se sono diverse da quelle light crude queste sono pause come se l'indicatore si ricari cassero lo fanno molto spesso anche il mac di per esempio mi fanno pensare che bisogna stare abbastanza attenti ho la sensazione l'ho espressa anche stamattina in video che per quanto riguarda i mercati che hanno fatto più performance credo abbiamo adesso modo di vedere andiamo a vedere vuole andare a cercare ora qui non ce l'ho copper ecco il rame credo che bisogna come su rame vedete che sale e l'indicatore si scarica può essere uno scarico di indicatori ma per esempio per quanto riguarda il rame che è un proxy è uno specchio importante dei movimenti dell'industria non vorrei che potessimo assistere a movimento di riposizionamento queste sono figure che in analisi tecnica anche se non è proprio perfetta si chiamano diamanti sono molto belli quando come isole si staccano e vengono creati tramite i gap non è il caso dei mercati che tradano h24 quindi in termini strategici credo che i trader debbano fare estrema attenzione e sono convinto che già in voi questo ragionamento è presente al dimensionamento delle proprie posizioni cosa significa parlare di dimensionamento delle posizioni significa semplicemente rendersi conto che la volatilità non è un fatto e un fattore statico di norma tende a essere abbastanza persistente soprattutto quando è bassa e tende a essere ovviamente ciclica come tutti gli avvenimenti sui mercati finanziari sulla persistenza della volatilità e quindi sul fatto che bassa volatilità sostenga i rialzi degli strumenti finanziari e impedisca di trovare soddisfazione per gli short è piena la letteratura di tutte le nostre avventure di trading va però ricordato perché altrimenti ci perdiamo un pezzo del discorso va però ricordato che gli incrementi di volatilità possono arrivare in qualunque momento soprattutto quando vi sono delle ragioni strutturali per considerare delle prese di profitto che possano arrivare su qualunque attività finanziaria le prese di profitto arrivano di norma per due motivi uno quando si raggiungono dei rendimenti che paragonati al rischio sono fin troppo lusinghieri normalmente queste sono prese di profitto più episodiche cioè si fa cassa non si esce magari dall'operazione ma se ne chiude una parte sia a rialzo che a ribasso per poi attendere momenti in cui si può rientrare in favore del trend strutturali di base a prezzi più interessanti e intanto la performance viene messa al sicuro oppure possono le prese di profitto arrivare quando giungono sulle schevanie di tutti gli operatori grandi o piccoli che siano delle informazioni tali che modificano il contesto con il quale i mercati e gli operatori hanno ragionato fino a quel momento così come quando c'è stato il crollone del covid la notizia del covid modificò completamente i parametri di beata felicità che i mercati avevano riportandoli con la paura che ci fosse veramente qualcosa di grosso a livelli più normali così come quando poi il covid ha portato il dax da oltre 13 mila in area 8 mila qualcuno ha fatto dei conti in quel caso la notizia è stato di prendere profitto dagli short sull'eccesso e rientrare garantiti dal fatto che le banche centrali erano pronte a inondare di liquidità ai mercati gli stati e tutti i dipartimenti del tesoro di tutti gli stati erano pronti ad agevolare con vari tipi di misure contribuenti imprese eccetera eccetera e allora lì si è vista un'occasione che ha cambiato il mood di brevissimo perché un 40 per cento di storia dei mercati finanziari in 25 giorni lo incassa chiunque ai tempi di adesso che non sono più i tempi in cui un 40 per cento in 25 giorni faceva paura perché non c'erano le banche pronte a finanziartelo oggi le banche te lo finanziano le banche centrali e quindi il grande calo che ha durato più di un anno della crisi dei muti sub a prime oggi non durerebbe un anno perché ci sono dentro il sistema all'interno di quella che qualcuno potrebbe chiamare una bolla anche degli altri tipi di accorgimenti che però sulla volatilità si debba essere estremamente attenti perché le cose potrebbero cambiare in qualunque momento e quindi le nostre size le grandezze le nostre operazioni dovrebbero essere adeguate è comunque un dato di fatto magari tu sei entri sul mercato future normalmente con due contratti sul cfd che ne so con uno zero dieci perché in base al capitale che hai in base alle performance che ottieni in base a il dimensionamento di quello che tu intendi per tua leva nella tua zona di comfort ti trovi bene poi e questo magari perché sei dentro una volatilità che ne so dell'uno e 40 per cento un 50 per cento sul prezzo ti arriva una volatilità che dopo una settimana comincia a comporre un atr che ti aumenta tantissimo e che ti va all'uno 80 al 2 per cento sul prezzo non dovete pensare ma che vuoi che sia uno 0 60 in più perché uno 0 60 in più su uno strumento che ti fa una volatilità giornaliera pari all'uno e 20 per cento del prezzo intendendoci lo strumento vale 10.000 la una volatilità giornaliera dell'uno e 20 per cento significa lo strumento balla di 120 punti al giorno è chiaro il ragionamento faccio una domanda perché se non è chiaro questo mi devo fermare nella spiegazione che vi voglio introdurre mi serve un buon cristiano un buon volontario che mi dica sì ho capito io davide che cazzarola ragazzi è fighissimo perché no non si perde un pezzo di niente e ti ringrazio ok abbiamo capito se lo strumento comincia ad avere una volatilità di 180 punti è chiaro che la volatilità è l'1,8 per cento del suo prezzo di 10.000 e uno dice sì ma è aumentata dello 0 60 per cento andatelo a dire a quelli che fanno le opzioni cos'è un aumento della volatilità dello 0 60 su un 1,20 che è il 50 per cento o straguagni o straguadagni o straperdi punto numero uno allora noi non possiamo non tenere presente anche quando facciamo i time frame tra dei piccoli che un incremento della volatilità può essere decisamente pesante sotto certi aspetti e dobbiamo essere in grado di misurarlo allora il buon Daniele Ponzini Bidiava non lo sa ma io mi sono fatto sono andato a recuperare una tabella che avevo per me nel lontano 2014 che adesso vi faccio vedere e abbiamo deciso io e il suo programmatore che invece lo sa di creare un applicativo per Metatrader 4 che sarà messo a disposizione chiaramente di tutti coloro che non hanno ancora aperto il conto su Avatrade perché Avatrade sponsorizza questo webinar quindi non possiamo dimenticarci che lo facciamo perché c'è qualcuno che ci permette di farlo che aprirà un conto su Avatrade vi faccio vedere come funziona l'applicativo giusto perché ne abbiate un'idea così vediamo se questo concetto vi può suonare ho ipotizzato di avere un conto da 10 mila euro e che il mio obiettivo sia quello di fare il 2 per cento al mese il che significa fare lo 0 10 per cento penso che vediate tutti questa tabella in Excel se la vedete tutti vado avanti se no se non la vedete bene perché magari avete lo schermo piccolo la vedrete meglio poi quando sarete ipotizzo di usare una leva 0 30 0 30 non significa leva 100 200 perché qualcuno ancora mi fa queste domande significa che se ho 10 mila euro ne utilizzo un terzo 0 30 significa il 30 per cento il 30 per cento di 10 mila quindi su ogni operazione investirò 3 mila euro che chiaramente avranno un impatto diverso perché non tutti gli strumenti quotano e hanno un valore a punto analogo per cui 3 mila euro su nasdaq su una cosa 3 mila euro su un dax su una cosa su un bunde su un'altra cosa su una valuta su un'altra cosa ipotizzo che non voglio perdere più di 2 dello 0,2 per cento a operazione sono tutti parametri che posso modificare e ogni volta sarò sempre investito al cento per cento cioè se io voglio lavorare 3 mila euro lavoro 3 mila euro se ne voglio investire 1.500 posso cambiare questa cosa allora io mi sono preso i dati di volatilità dei principali strumenti finanziari che seguo e delle principali valute che seguo da 5 minuti a 60 giorni ok 5 15 30 1 ora 2 ore 4 ore 8 ore oppure operazione che si apre in apertura e che si chiude in chiusura volatilità a un giorno 2 giorni 3 giorni 4 5 giorni ok ci siamo fin qua bene ho misurato moltiplicato per ogni punto che sulla piattaforma AVA viene attribuito a un lotto di contratto quindi non ho preso i punti che si hanno sugli strumenti ufficiali DAX grande vale 25 ore appunto il mini DAX vale 5 eccetera eccetera ho preso quanto AVA per ogni lotto perché sulle piattaforme della MT4 si lavora per lotti viene attribuito ho preso lo spread medio calcolato ho preso l'ATR a 5 giorni ho fatto i miei calcoli l'ultima chiusura ho preso il valore del sottostante che si muove a 13.940 un lotto di DAX di GR30 vale 10 euro muovo 139.400 euro 13.940 moltiplicato 10 euro appunto il valore del sottostante che muovo è 139.000 ho un conto da 10.000 significa che se il mio average true range è 195 poi in realtà qui c'è un arrotondamento che bisognerebbe rimettere le virgole io mediamente mediamente perché la volatilità è sempre un valore medio nel calcolo della formula del leverage true range mediamente rischio 1.945 euro Eurostox che vale meno del DAX è più piccolino nei contratti dei future ma per DAX invece più grande perché AVA gli dà 100 euro per ogni punto che si muove su un lotto se sono 0.10 sono 10 euro appunto se sono 0.01 è 1 euro ogni punto se vale 3.620 per cento sono 362.000 euro che muovete ok vediamo un po' ragazzi scusate io devo devo andare avanti purtroppo non mi posso occupare dei vostri problemi di audio dico sì a tutto per cui se la mia volatilità sono 45 punti che per realtà sono 44,85 medi e abbiamo moltiplicato 100 questo è il ragionamento e funziona per qualunque asset class che vado a esaminare ho dato un valore appunto anche sulle valute chiaramente diviso per il sottostante delle valute perché un conto è euro dollaro un conto è dollaro yen è la valuta al denominatore che crea poi il valore reale anche in questo caso ho messo la tia e ho messo gli spread eccetera eccetera al di là del fatto che ho calcolato con una funzione qual è lo spread più basso in rapporto al range ed è il nasdaq il russell l'oro l'esp 500 l'euro dollar e il dax e lo spread più alto il bund vi ingrandisco un po il file così magari lo vedete meglio qua e questa è un'informazione volete fare scalping è ragazzi il il bund non è un strumento per fare scalping lo strumento più rischioso è il bitcoin perché chiaramente il bit vale 30 e roti mila quanto vale e ha una volatilità pazzesca del 10 per cento al giorno per cui sono 3500 punti di atr tutti i giorni che moltiplicati 10 e dollaro appunto che in euro sono otto che devo cambiare il sistema di valuta sono 293 mila euro ok chiaro no non ho un problema di audio io ma non concentratevi su quello se vi dico andiamo avanti andiamo avanti perché sennò mi disturbate anche voi nonostante tutto quindi significa che qui avete anche una graduatoria che possiamo cambiare in ogni momento al più piccolo al più grande più grande al più piccolo degli strumenti meno rischiosi e degli strumenti più rischiosi dove c'è poca volatilità su strumenti dove devi far lavorare il tempo dove c'è tanta volatilità devi stare molto attento perché perché può succedere questo che la volatilità trasforma dei vari punti tipo il dax a una volatilità a 15 minuti di 21 punti perfetto ma 21 punti cosa rappresentano su un contratto di ava di un lotto 212 euro che sul 30 minuti diventano 300 euro cioè mano mano che il tempo passa il rischio aumenta vuoi stare in posizione con un lotto di dax per tre mesi perché ti piace prendere il trend un lotto è quindi vuoi stare in posizione con 139 mila euro di sottostante dax che hai comprato con un lotto di ava che vale 13 mila 940 10 euro appunto lo puoi fare sappi che la volatilità in tre mesi è a oggi 1500 punti che moltiplicato 10 tu devi avere un conto che possa sopportare un'oscillazione in più ma anche in meno di 15 mila euro è chiaro faccio una domanda perché voglio condurvi anche se vi mi dica che ha capito che mano mano che il tempo passa la volatilità aumenta ed è quindi aumenta il rischio Marco mi dice sì non ne dubitavo Luigi non mi dice sì cristallino ok quindi avete capito che la volatilità non è un fattore statico ma influenza la durata nel tempo delle vostre operazioni ecco perché io raccomando sempre se fai lavorare il capitale cioè entri mettendo una grossa botta di lotti devi essere veloce sia a stopparti che a guadagnare perché più il tempo passa tu stai prestando un capitale importante poi vedremo come si misura questa importanza al mercato per più tempo il mercato ti è debitore tu sei un creditore avendo finanziato il mercato per avere un utile più passa il tempo e quest'utile non arriva aumenta per la legge di marfi della sfiga ma anche per una legge tecnica la probabilità che questo utile non voglia arrivare e voglia invece arrivare una perdita quindi come dice tiziano meno si sta a mercato meno si rischia meno anche si guadagna però ricordiamoci che il 90 per cento dei guadagni arriva quando controlli il 90 per cento delle perdite ve lo dico per esperienza perché io parlo perché tutte le cazzate del mondo le ho fatte allora abbiamo un conto in grado di sopportare 15.000 euro di volatilità il nostro conto lo può sopportare se abbiamo 10.000 euro no non lo posso sopportare vi faccio un'altra domanda avete 10.000 euro ed entrate con un lotto di dax ok un lotto di dax con esma quanto costa come margine esma ti mette leva 20 quindi avete 139.200 diviso 20 così calcolate quindi avete 10.000 euro entrate con ava con un lotto di dax dati un margine 6.960 euro ve ne rimangono se ne avete 10.000 liberi 3.040 ci siamo anche su questo è chiaro il ragionamento quindi saldo del conto margine depositato liquidità disponibile la liquidità disponibile vi deve aiutare nella gestione delle oscillazioni del mercato se voi volete guadagnare e finché il mercato non si muove voi non lo sapete se guadagnerete o meno non lo sapete allora se fate un'operazione a 15 minuti sul dax mediamente mediamente andiamo di nuovo un grafico del dax perché torneremo poi sui grafici adesso rimaniamo sulla tabella intanto io me lo preparo per conto mio rimaniamo sulla tabella mediamente vi ballano 21 punti ma è una media perché l'average true range si chiama average media mobile della distanza fra i massimi e i minimi di un certo numero di candele la signora lagarde ha parlato alle 14.30 ora sono le 15 è passata quindi mezz'ora la volatilità media in mezz'ora è 30 punti 19 986 19 896 se non vado errato di punti ne sono ballati in mezz'ora 90 tre volte la volatilità media tre volte la volatilità media tutto bene se sei andato short ma se sei andato long tu sei sotto di 90 punti che moltiplicati 10 euro sei sotto di 900 euro quei 900 euro sono una cifra che può dire zero a un utente molto capitalizzato un dramma per chi è poco capitalizzato perché se tu hai un conto di 10.000 hai comprato un lotto ne hai messo 7.000 euro di margine sei sotto di 900 euro della liquidità che ti è rimasta che erano 3.000 euro ti sei già fumato il 30 per cento della liquidità al tuo margine disponibile è rimasto il 2.100 e se vuoi mediare non puoi mediare con un lotto cosa che sarebbe da pazzi ma perché accade spesso questo perché in realtà con 10.000 euro tu ne hai mossi 140.000 cioè la tua leva non è 20 a 1 oppure 200 a 1 se sei su Bahamas e piuttosto che dove ti pare tu stai lavorando 7 volte il tuo capitale sei come un'azienda che ha un capitale sociale di 10.000 euro e hai chiesto alla banca un finanziamento di 140.000 devi fare utili della madonna per potertelo gestire perché se la banca un giorno ti dice devi rientrare e beh come si rientra fermiamoci qua e andiamo avanti allora in base a questi parametri che chiaramente sono modificabili noi abbiamo anche un ulteriore calcolo ripeto stiamo parlando di un conto da 10.000 euro di un trader che vuole guadagnare il 2 per cento al mese è tanto che non vuole usare molta leva e che non vuole perdere più di 20 euro a operazione è un esempio è un esempio non è un parametro fisso né consigliabile ognuno con i propri denari fa ciò che vuole vedete che la tabella e qui diventa secondo me una figata spaziale vi dice stai lavorando addirittura guardando quello che potrebbe succedere in cinque minuti puoi fare 0,16 lotti se invece lavori su un time frame a 15 minuti non puoi usare 16 lotti perché in 15 minuti la volatilità è 12 21 123 contro 112 la volatilità tende ad aumentare nel tempo quindi se la volatilità aumenta devi diminuire la quantità di soldi che presti al mercato fai lavorare il tempo diminuisci il capitale il dramma è quando facciamo lavorare il tempo aumentando il capitale rimediando io vi garantisco vi garantisco ma lo sapete benissimo anche voi non avete bisogno di nessuna garanzia da parte mia che la strada per la perdita passa da qua il che significa che se dopo un'ora hai avuto del profitto dovresti chiudere e quindi venderti 0,16 0,05 0,11 piuttosto che stopparti puoi portare l'operazione che hai comprato alle 9 di mattina fino alle 21 stasera a chiusura a chiusura devi arrivare con 16 volte meno del tuo capitale poi puoi tenerti il tuo capitale ancora per 1 2 3 4 giorni 5 giorni devi chiudere è uno stock che è più pesante vedete devi lavorare con 0 0 7 anziché 16 4 anziché 9 3 anziché 7 non puoi andare in overnight fuzzi mib lo puoi fare per un giorno sp 500 lo puoi fare semplicemente per un motivo perché l'SP 500 è un contratto che in termini di volatilità moltiplicata per il prezzo anche se muovi un sottostante più grande è più piccolo rispetto al DAX e di conseguenza lavori molto meno e lavorando molto meno capitale parti con metà del capitale e la metà del capitale ti resta e tutto resto qui c'è un errore di programmazione dopo lo sistemiamo bitcoin non te lo puoi permettere forse con un grafico a 5 minuti bund è uno strumento più piccolo meno volatile puoi tenere le posizioni lo stesso per quanto riguarda le valute euro dollaro parti con 0 11 dopo due giorni devi uscire questo è rame 0 55 004 004 007 sul dollaro iene 0 0 4 3 8 chf è poco volatile puoi avere un'operazione un po più ampia stellina dollaro 0 41 questo è il ramo è il ramo valutario lo faccio lo lo coloro allora che cosa abbiamo deciso di fare molto semplicemente credo che ci vorranno un paio di settimane mi assicurano meno ma diciamo un paio di settimane faremo un applicativo non sarà un trading system sarà proprio un applicativo che prenderà i dati dalla mt4 di avatrade e per ogni strumento finanziario che vorrete vi calcolerà le size in base alla volatilità ma in base ai dati del vostro capitale degli obiettivi giornalieri della leva che volete usare perché se volete usare leva 1 a 1 lo potete fare ci mancherebbe altro cambiano le proporzioni a voi e di conseguenza vi permetterà di ogni giorno di avere dentro la vostra piattaforma anche un calcolatore immediato di quelle che sono i rischi che andate a correre nel tempo che passa e potrete personalizzarlo con degli allarmi che vi diranno guarda chiudi questa operazione perché stai rischiando troppo oppure incassa questa operazione perché stai guadagnando convenientemente rispetto alla volatilità potresti mangiarti i profitti una sola domanda e poi chiudiamo perché siamo andati lunghi di 10 minuti può essere una cosa conveniente per un trader avere questa informazione sul proprio monitor se non si è capace di usarla si va vittorio si cambia hobby non è un problema bene 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 dateci un paio di settimane di tempo e questa informazione sarà disponibile anche per questo tipo di piattaforma detto questo mi auguro che gli spunti didattici di cui abbiamo parlato oggi analisi grafica volatilità livelli di protezione eccetera eccetera vi possano aver dato motivi di interesse di riflessione ovviamente le cose di cui abbiamo parlato e questo è un assist che mi ha fatto davide savoino che ringrazio saluto per la sua competenza è sempre preciso sempre mai banale è che queste cose servono se sai che tipo di operatore sei ma credo che abbiate tutti capito e veramente con questo noi ci lasciamo che il trading non è un luogo per persone che non hanno consapevolezza di cosa vogliono dalla loro vita di investitori sono momenti che passiamo tutti ma prima o poi se vogliamo essere ancora qua e ve lo dice uno che ha fatto stupidaggini che ha passato momenti difficili ma è ormai qua da 15 anni se vogliamo essere qua è perché a un certo punto bisogna fare una scelta e la scelta deve essere voglio che il denaro si appropri della mia vita della mia serenità e va detto della mia salute oppure voglio essere io a governare l'energia del denaro e anziché pensare che sia una cosa brutta che non piace alla chiesa sia una cosa che serve a migliorare la vita mia delle persone che ho intorno ognuno si dia la risposta che vuole a una domanda che ovviamente e volutamente ironico sardonico provocatoria io con questo vi saluto vi ringrazio della compagnia che mi avete fatto e dell'attenzione con cui avete seguito il nostro incontro tempo di farci editing sul video stasera sarà su youtube e poi ve lo giro direttamente se siete iscritti alla mia newsletter se non siete iscritti alla mia newsletter male questo molto male e allora faremo in modo che lo possiate vi ve lo possiate ricordare è un luogo nel quale ricevete informazioni sulla mia attività un saluto a tutti e buona serata